ciao ah finalmente ci siamo finalmente dopo giorni e sono stato fermo su da genshin praticamente da quando ho finito l'evento di razor non l'ho più attaccato ho deciso perché magari hanno aggiunto qualcos'altro non credo però se da fare su genshin tanto bene o male le troviamo quindi non mi sembra una grave mancanza quindi direi subito di partire a bomba e vediamo cosa fare cosa fare per esempio potremmo riuscire in qualche maniera ad arrivare al 40 al fantomatico livello 40 dove dovrebbe sbloccarsi cose permettere cose e quindi a cui gli artefatti quelli belli non i troiai che trovo al giro a cui devo per forza di cose e devo accettare perché c'è solo quelli quindi speriamo di riuscire a arrancare oggi anche se la vedo dura intanto ci do da me dove cazzo sono allora guardate qui perché c'è qualcosa che non mi torna dottore dottore se vuole aperto discord sono già dentro quando vuole adesso missioni al twitch con di san diego per forza al twitch una ma attesa il fish con in quel senso capito ho capito ho capito tutto ho capito io purtroppo non sono al fish con di san diego ma ci andremo ci andremo insieme ci andremo non ho detto come ospiti è però ci andremo anzi attenzione saremo in vita special guest proprio dove cazzo sto andando io special guest al twitch con del prossimo anno porteremo gioia e amore laddove non ce n'è mai troppa gli sto vedendo dottore se riescono finalmente ad arrivare all'adventure rank forti così da sbloccare un sacco di cose belle un sacco di e piano reso sempre sei troppo aggressivo per i miei gusti stasera come parlare con ver godet com'è stressante vabbè mi sono dicendo bello il gatto aspetta se riesco a zoom sul gatto zoom ma il gatto non mi non mi riesce a zoom sul gatto vabbè dai mi sono in giornaliera prima ce l'ha da ver goldet questa simpatica signorina che lavora qui questo luogo che ora mi sfugge il nome grazie non ho capito cosa devo fare ma devo aspetta dove cazzo devo andare mi scusi sì ma vorrei tanto sapere dov'è che devo andare signora devo andare di là devo andare di là e ovviamente io figurati se ci ho preso un teleporte vicino quindi si va a piedi mi sta dicendo che si va a piedi quindi va bene porca maiala non c'è un teleporte vicino faccio prima di arrivarci a peli da qui magari non tirandomi a sabon già così però io credo in te il razor so che la tua stamina ci consentirà di attraversare lunghi mari e lunghi fiumi almeno il piano è questo piano razor adagio figliolo lì c'è un gioculus che non ho idea di come pigliarlo da quell'altezza forse dovrei andare sul cucù solo e tirarmi di sotto almeno credo lamenta sempre per rinfrescare l'alito importante no 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 non è il momento non è il momento non vi sto considerando non vi sto considerando perché voi cagate a me se io non vi cago non vi sto considerando andatevene via per piacere grazie ma a te fra tutti i posti proprio qui in mezzo all'isolotto dovevi venire uh qui c'è un fiore glacialo allora che devo fa cioè mi hai fatto venire qui con il trappolone poi devo buttare giù tutti questi affari non è molto carino da parte vostra non è per nulla carino questo è andato e piano e adesso se continui a stare in acqua è normale piglia la scossa detto così questo lo buttiamo giù subito perché lo vedo abbastanza aggressivo ottimo ce n'è qualcun altro no torniamo dove siamo venuti però intanto magari potrei prendere un teleport assolutamente no torniamo nella nostra zona allora torniamo dalla nostra amica ma che si va bergold e ciao bergold e te fatto di tutta posto accetta questa come compensa me ricompensa molto gentile mese bergo dette sempre la garanzia ora vado di qua si vuoi andare di là si prenda di latte lo giuro voglio andare di là non è che ho sbagliato voglio se mi lasciare se mi fa un favore grazie verso nuovi orizzonti la potenza di reso eccezionale come sempre eccezionale come sempre reso la garanzia qui c'è da ammazza i classici 9 o mini forse ea piano è fatta a modo è troppo aggressivi per i miei gusti è troppo aggressivi poi ce n'è sempre uno con l'arco che deve rompere i coglioni guarda guarda e magari se lo pigli barbara mi fa un favore a niente toccherà rampiarmi appena reso il capisce qual è il palo bravo niente 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 rimane sulla torretta non sente e saltone colpone piano super congelamento incredibile ora si fa così 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 e si shotta agile e si shotta agile a mi raccatta tutto è raccattabile ancora ho lasciato un raccattabile no e invece si bene a tratti benissimo adesso possiamo tornare per forza di qua e tirarci dall'altra parte è diventata la nostra ab centrale in pratica questa parte via magari se metto la navigazione so anche dove devo andare e vai piano reso se troppo irruente poi ti ammazzi oh voglio prendere il fossile per piacere e vacca boia vacca boia stra boia vacca ho detto boia e e no no troppo aggressivo questo è troppo aggressivo bello ignorante reso il boia l'hanno fatto però vuole noi c'ha la voce un pochino d'accoso a faiioide c'è la voce un po da adolescente di doson cric che però giugno su tando da quanti cazzo sono scusate sti questi simpatici uomini o picchie più bello picchie più bello e questo era grosso e la mamma del maiale la gran maiala ma perché te sarà sul cucuzolo io devo se non presto anche te la missione non me la finisce moremmo maiala fatti pestare per favore grazie lei è un bravo ilicur lo sa non è bello come in realtà non abbia fatto una missione o forse si è me ne manca una di missione dove cazzo è dove l'altra missione scusate dragons sabotage the slime balloon sì ma perché lì c'era loro lo mettevo più lontano bello comunque come questo gioco ti insegna a dirottare i dirigibili aspetta un attimo non credo sia un bel messaggio dirottare gli agibili gli agibili dirottare gli agibili dirottare i dirigibili lo stai facendo bene è però se mi fai gli scherzoni anche te questa pesta aggressivo resore anche contro un dirigibile ditemi perché se la mucca famo il merlo non fa me è un dirigibile marrone pensa dio madonna uglione e andate tutti a fanculo bravo ditemi perché vado a mostata a riscattare il mio premio il mio premio perché la mamma del maiale degli advenso dai quanto mi manca arrancare mi manca pochissimo 500 punti esperienza mi mancano come li faccio 500 punti esperienza pensa francia pensa come li faccio 500 punti esperienza 500 punti esperienza qui cosa c'ho da riscattare e attenzione gift questa roba vabbè 500 punti esperienza come si fanno 500 punti esperienza instant con le storie ovviamente è un po è la più fattibile adesso a del mondo non c'è un cazzo una di queste è però questi sono rotte in culo sono un po rotte in culo queste missa vediamo un po questa forse vecchini porta non mi porta ho sbagliato mi dovresti porta search for the fragment near the geostatue scusa le geostatue non sono queste le statue dei sette questa è una geostatue geostatue andiamo a vedere perché c'ho quell'affare lì vabbè non mi interessa saperlo adesso allora statue dei sette worship statue e quant'è che c'erano così tante scusami è la missione cosa cazzo dice ha ricevuto eh the mysterious problem for granny rux in un frammento è vicino le rovine e un'altra ancora quindi andare ai jeans village e jeans village è più o meno verosimilmente qui è un bel posto per andare avanti allora jeans village uno è lì ma dopo il prete devo raccogliere frammenti arrampicati mi sa di sì che devo raccogliere frammenti questo è compliato eh no bastardi da non ti fanno aggrappare sul mulino tremendo poi il reso si arrampica ovunque tranne dove deve e attenzione ho visto cose una common chest è molto strange devo andare lassù mi devo fare un'azione illegale più o meno faccela 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 saltone incredibile bravissimo mi sa che quello che sto facendo comunque inutile ti prego arrampicati bravo dove cazzo è il mulino come cazzo sono arrivato qua io e non basta e non basta e proste stronzi è e dello stronzicismo qui però è che mi dice il al manifesto miss in point person va bene me lo segno però adesso devo raccattare un attimo i gel lì c'è roba nel cazzo vai razor ovviamente razor non è buono ad arrampicarsi dove deve da lì cosa mi tocca fa e tocca andare là sopra arrampicati possibilmente razor bravo all'ultimo da pia perché giustamente devi staccarti da lì il razor gioca a gas e ti dicevano è molto tranquillo e per nulla frustrante ti dicevano la mamma del maiale non mi pari a carta cosa al giro prima come cazzo ci arrivo lassù passando forse da un punto più in alto che credo sia questo spero almeno che sia questo perché che sia facile arrampicarmici bene sono utili per e shangling se no passo dal cucuzolo della rupe almeno sono sicuro che da lì ci arrivo appena carica la stamina carica molto bene ora io più in alto non posso arrivarci cioè non posso arrivarci non posso lasciare l'immediato mi ha fatto come se avesse trovato qualcosa forse una cesta forse qui dentro ma ma triggerato devo andare più in alto devo andare in qualche mani devo raggiungere questo cucuzolo solo che non c'è un metodo ai fiali per raggiungere il cucuzolo visto che il razor non ci si può arrampicare da dentro da sotto quindi io come cazzo faccio riprovando da qui forse riproviamo da qui perché c'è il muro ma se io faccio il giro da di va forse bypass il mulino ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego la mamma del maiale era una gran maiala però prende quella cazzo di geo statua possibilmente senza uccidere nessuno mi prendi per favore queste carrube di merda il pomodoro la mela quelle cazzo è devo salire più in alto come faccio a salire più in alto io sono qua esattamente tra i due mulini o passo da qui e provo se no ora devo tornare laggiù assicurandomi di essere nella parte più alta possibile vero in cima a quel cucuzolo che cosa c'è attenzione ho trovato rex lapis over ken the shee but she could not perish beh sacco di cose questo la farò dopo perché come è interessante questo non è rompibile sta roba perfetta attenzione qui c'è un altro qui c'è un altro però da qui posso andare sull'albero e fallo facile sempre che il buon reso riesco ad arrampicarsi e questo si è preso benissimo mentre se volessi prende quell'altro mi devo arrampicare la sopra vedo o a caputana sto per casca di sotto e una carica barame la gira per favore sali senza dare troppi problemi grazie molto gente le è la è veramente già dire la usa per favore non smusarti reso non smusarti adesso reso 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 perché mi fa venire questi micro infartini tutte le volte io devo arrivare esattamente la sua ma voglio andare con calma farò il giro largo questa volta voglio arrivare pacioso sano dall'altra parte dove mi sto arrampicando in tutto ciò no non t'azzardare reso re bello come il sole ora col culo e l'abilità che mi ritrovo io lo shikero anche quel geo è il momento alla testa e per prendere un geo fa tutta sta strada che bello che bello ce l'ho fatta però non sto facendo questa missione per cercare frammenti da granny roxin e da un sacco di altri posti un altro è vicino le rovine devo trovare frammenti via un altro è vicino le rovine al keep watch al keep watch e tutto quello che ti pare a me basta aver preso il geo statue il il cazzo adesso granny roxin eccola la viaggio benvenuti al villaggio di king jie esatto check the rules in this area quindi devo andare a ovest ha detto l'ovest da questa parte qui non c'è una west una statua di quelle fotoniche però questo è il villaggio forse qui trovo qualcosa eccolo lì maledetto ma non mi si nascondeva non lo so se us full mi basta ve lo presus poi devo tornare a parlare con la nonna per capire se ho fatto bene finora e nonna vieni qua ho fatto tutto credo ma è le rovine le rovine a scusa ma è the key of your vediamo se sto facendo bene allora the key of your guest gli altri quanti sono io dunque il primo frammento ah ho capito ho capito ho forse forse ho capito no non si va a caccia di un cazzo le rovine questo posto dovrebbero essere laggiù o parte delle rovine e due ore mi dice hai trovato cose eccolo un altro vabbè quello devo salire su questo edificio in qualche maniera credo da questa parte per favore non fare cazzate professionale raccolgo anche l'ova guarda sì madonna ho sbagliato tutto sbagliato tutto ma ma maiala perché non mi prendi i salti perché il razor non mi prendi i salti eccezionale come sempre eccezionale come sempre ma 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 dio e poi cristo ai presenti mio mio andando sì ok e poi devo raccogliere tutti questi affari vi abbastava dillo prima fatto una profezia dio buono sembrava un coso comunque sono nella parte sbagliata è la mamma del mai a è di qua le rovine ovviamente non c'è un teleport che bello o cinghiale è ma porca madocca devo passare di qua ma prima faccio il forziero questo è stronzo boss e questo è stronzo aspettami un attimo finisco un attimo di pestarti così da bravo non ti lascio fare un cazzo visto che fai male come le merde esatto pezzo di mota bene a tratti venisse molto strange hai trovato bamboo shot sto andando dalla parte sbagliata search for the fragments near the geostatus status lo statuto albertino mi sa che forse non sono questi però che devo raccogliere mi sembra troppo strano ha detto che uno è vicino le rovine le rovine sono queste eccolo il fragments che li stavo andando bene prima ok quindi sa che questa missione in realtà è più lunga di quelle pensassi e non si arrampica ho visto perché c'era tipo una tomba qualcosa c'era scritto dig a un certo punto era apparsi tipo di seppellire to dio buono in realtà non c'è una sega bene molto bene a tratti benissimo forse da questa parte capiamo e fa è l'ultimo grazie lei veramente c'è questo qualcosa serve secondo me fatto stai capire come triggerare questa affare vediamo un po cosa ci dicono cosa ci raccontano da quest'altra parte fanno interatti with questo tena c'è spawn in the middle of the area del consegno ruina in the middle allora quindi devo andare attimo di qua prima esattamente qui all'incirca qui o se sta a fare dai che ce la fai dai ce la fai dai che ce la fai allora intanto qui c'è una cesta scusate un attimo voi e questa pista 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 picchie pivello picchie pivello picchie pivello picchie pivello picchie pivello si è arrampicato che sento dello sbrillucicchio sono nel punto giusto però da me non c'è la tizia ci dovrebbe essere una tizia qui grosso modo non c'è molto bene perché non c'è la tizia da ogni parte facciamo così oh allora ho la mesi fa eh dunque ok vediamo bisogna fare così ok devo andare da questa parte come è fatto ad attivarlo scusi lei è completamente diversa dalla meta da da me questa roba ho capito anche perché ho capito è completamente diversa allora dove cazzo ero prima che mi ha fatto quella parte lì ero per comunque al villaggio ero devo tornare al villaggio devo tornare al villaggio e andare per ricordarmi dove cazzo ero andato allora fammi ricorda un attimo eh fammi ricordare un attimo non mi ricordo un cazzo non mi ricordo un cazzo perché non è di qua ero andato di qua più o meno invece un altro dentro ma non mi servono quelli non mi servono vesti risalta per bene razor io qui ce l'ho già venuto perché a per andare indietro poi ok ma io ho fatto sta strada prima ma siamo sicuri sì sì cazzo ci sono vai allora quindi devo fa ok c'è un ordine mi apia mi sa che forse ho capito allora forse è questo questa guarda questa no perché tutti quanti vanno nel centro quindi non è tanto questo l'ordine all'ordine sbellato sia allora ci do a capire un po se dice sta a fare o sbond in the north it bones were pinned in the sud est quindi nord sud est nord ovest nord est su dove quindi è nord sud est nord sud est nord sud est nord ovest nord ovest nord est a capire ok quindi è questo 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 o vaccavoia bella però threshold chest va è il primo si è fatto ora dice uno è alle rovine io sono andato le rovine ma non c'era un cazzo comunque furbo come una mina non prendere il teleporte vabbè parte questo andiamo da questa parte mi compare è il momento di una maratona corri razor per piacere dovresti avanzare non arretrarre fortissimo si va in gita con razor trullala si va in gita con razor trullala quindi devo seguire quelle cazzo di piattaforme che mi dicono cosa fa appena ci arriva il buon razor allora with the evil serpent gone some thrice allora for blood something 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 perché something something from stone uno era lì uno è di qua ma il problema è che è presa non sono attivi sono soltanto due qui eh facciamo una cosa intanto alleviamo dalle palle questi affari perché potrebbero rompere il cazzo per favore grazie eh ti pareva strano l'importante è che esatto non mi dico che devo accendere tutte queste cazzo di torce un cazzo di genio 1 2 la c'è un'altra esatto vai giù una cesta me ne manca eccola no perché 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 prende iniziative shunling di qua brava ho pensato lì è molto angri però io dovrei trovare il modo di sbloccare quella farina perché non sei attivo te hai interruttore ai boss o tre anche bene basta seguire il cristallone come se grosso sembra mente grosso sei e non me l'ha attivati sono tre qui mi sembra è uno e diva sono 1 2 e 3 o c'è un altro da qualche parte sono questi tre nessuno dei tre attivo perfetto l'ho già preso questo ma non mi sembra with the evil serpent gone from king the magic formula the subject was no long ma il serpente non morirà e devo capire intanto fammi andare se la tizia fosse spawnata da nulla per favore a un sacco di ceste che non ho mai cagato 1 2 e poi non c'è nessun altro la statua è lassù in cima cazzo o a me la tizia qui non mi spawna non so come fa non so come fa perché se la tizia non spawna allora le rovine ok quindi questa l'ho già fatta e se non me la dà più questa l'ho già fatta quindi o devo dire al signore o no va bene così ecco questa l'ho fatta la terza è da questa parte ok da questa parte è qui dove arriva di qua quindi posso da qui ho sbagliato tutto il volo ottimo le cazzo è finita si è inutile che ti teletrasporti tanto ti prendo ti prendo e ti prendo maledetta brava molto gentile molto gentile tanto e ho trovato roba molto gentile sbagliato praticamente strada sbagliato completamente strada sbagliato completamente forse no grazie razor sei l'ultima speranza mia uova sei sei tu non amo io amo le coppe e non le sconfitte carica anche se c'è una gamba piantata nello scoglio ma io l'elettro scene maggiore mi sta anche simpatia lo lascio proprio lì ma che bella è sta foresta per nulla inquietante il punto più alto è quello lì e devi arrampicare razor incredibile sì ma secondo me l'avevo già fatto quel pezzo di frammento mille anni fa quindi non mi ricordo assolutamente una sega bravo sali sale o sali sali sale o madonna il caga maron il punto più alto è lassù in cima vacca boia e ce la fu è carica ti prego o grandissimo essi che la parte aveva già fatta allora ma quanti cazzo quanti cazzo siete ma io non c'è bisogno tanto dell'ordine ah c'è qua ho capito c'è non c'è veramente l'ordine c'è proprio quelli giusti quelli giusti che dovrebbero essere ah ah ci si è fatta avevo già preso quel cazzo di ora si va dalla nonna e le si dice nonna queste volte vieni da sola a pigliarti eh che bel panorama king village e la nonna ce l'ho strafatta vieni via ciao viaggiatore benvenuti al villaggio di king ho preso frammenti nonna cos'è un capito molto bene a me basta mi dai la mia experience così posso arrivare al 40 finalmente missione di merda quando è che finisci sei un po in culo sei punto di osservazione costi allora devo andare da questa parte poi mangio un microfono moro in mamaiola cerca l'oggetto in quest'area e avete ru... vedete sei alto due metri sono alto un metro e ci affogo via ma la va la va la va sta cosa oh e poi faccio così e ti stempio oh via allora devo trovare l'oggetto in questo posto credo sia questo l'oggetto vediamo un po io facessi così non mi sai che qui per favore non ho voglia di fare a cazzotti con tutti ora va bene via ma questo è per il forziere perché lo sto facendo allora con questo di un attimo mmm fatti prestare un attimo per favore grazie dove sei scusa mi scusi lei non capito dai nella cascata ci deve essere qualcosa dentro non c'è un cazzo nella cascata ci posso anche mettere tipo sirio il dragone ma non c'è una sega qui dentro qui c'è una statua di di qualcosa e attenzione lui questo posto qui bellino era nascosto questo adesso io anche volendo find a way to a devo trovare una strada nella casca e dimmelo prima oh vacca boia eccola via non ti sto cagando io un cavo a te e un cavo a me no ok stavo andando per stavo andando scusi ma lei rimane così che cazzo è sta roba qui la cosa si fa interessa qui la faccenda si fa interessante quello il pianeta del tesoro il tesoro dei mille mondi avete rotto il cazzo la merda facciamo così poi così così e così e poi così così muore ma mai alla smettere di rompere il cazzo mi sa che stiamo per assistere a una cosa molto spettacolare o cazzo siete no mi serve velocità mi serve velocità bravo così orso continua a fare cose orso continua a fare cose bomba dai ma sono cinque davvero sta a fare scherzi dio madonna de e de e capito però sto un po tantini siete ok dai casca per favore fai finta che ti ho fatto male bravo 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 madonna quando fa quel cazzo di attacco mi sta sulle palle ma ce l'ho fatta ne manca uno no ne mancano due dovresti fare questa cosa qui ma remma mai alla no il giro giro no il giro giro no ho piantati lì un attimo appena finito vengo vai giù ruinante del cacciarune vabbè con cosa cazzo ma steso bello meno non lo sto prendendo male alla vita se non viene giù però è un cazzo il problema neanche lo sfonderò con barbara inutilmente visto non li sto facendo nulla adesso posso sfruttare il crystallize o boia di merda quanto cazzo levi alfonso senti ragiono lui ragiona basta che fai male alfonso mi cura lei se mi muore lei è un casino challenge failed perfetto vedrai secondo te non c'è qui un cura qualcosa li somiglia premordeccio fammi anche svegliare qui e l'altro siamo a posto pure il modo lo trovo eh il modo lo trovo adesso ci si fa un attimo ovviamente non c'è un cazzo di posto quindi curiamo tutti un attimo in qualche maniera curiamoli tutti e poi si vede a me sta cosa che c'è il timer madonna mi manda fuori di testa mi cura il razor qui con tutta la tranquillità di questo mondo cura cura razor cura cura razor e la finta incredibile e volata a intenzione scriva tutti continuiamo così appena è pronto rasoio qui può anche andare eh poi riproviamo ma mi sa che sconfiggi cinque nemico che prima è questo la mamma del maiale una maiala ho cinque minuti ma prima che inizia il tema può scompare il timer quindi non riesco a regolarmi quanto mi manca effettivamente picchialo picchialo non pensa piccolo piccolo merda la teleamera ovviamente ma una volta che azzecchi il punto devi invocare l'orso fatto cazzate enorme cazzate enorme non devo attivarlo ora ottimo aprieti devo proteggerlo e a 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 poi è stato bene mi ammazzo fisicamente proprio sto capendo via speriamo bene di riuscire a farlo io devo fare in modo che non colpisca ho capito dai ok dai eh però dei stronzi si è no non colpite lui colpitemi niente niente dai per favore la butti giù grazie no il giro giro non ci piace il giro giro è vietato vietato il giro giro è vietato di madonna maestra stronza no stai buono te sa fai e tu va o ma tu ti fai bei blady gli piace posso anch'io valla 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 stronzo fino al midollo ce la posso fa la mamma del maiale la gran troia ora invoca lui va inizio a fare su attacchi va finito ma tu non ce la faccio ti prego prendemelo prendemelo vieni giù in qualche cosa vieni giù in qualche fai qualcosa vabbè posso stagione tutta la vita basta e lo tenga qui da qualche parte e lo faccio si tengo a me basta mi sta qui da qui da qui e non mi faccia alzata al giro mi permette mai mai più voglia e sassate tira dai dio cristo mi è ciò per curare qualcosa qualsiasi cosa ho delle potenti mele ho sbagliato tutto bene attrattibilissimo e adesso devo fare altro che tenere la bada il fuoco lo di madonna non ti azzardando a di là eh facciamo scherzo di qua io sono di qua e vieni di qua vieni ci sto a 60 anni ma in qualche ma troia in qualche modo giù ti ci butto eh e basta scrivi per bene magari va benissimo così merda eh le combo fattile a casa tua testa di cazzo giustamente chi mi è rimasto ah per forza eh boia mondo se sto rischiando barbara fa warco grande barbara gottimo esordio maremma e poi se ti pianti però re sono anche te porco il demonio maremma merda ma anche andando bene challenge failed e tu dici testa di cazzo mi serve qualcuno di mi pensa o faccio una build aggressiva su lisa un attimo andiamo un po lisa è l'unica con le sue palle ah posso scenderla grande almeno al 40 deve arrivarci ma se almeno ho preso anche una palla armi allora andiamo un po lisa allora best build for lisa me la buildano come armi mi consigliano di usare vediamo un po non ne avrò nemmeno mezzo di questo pavonius gloss prayer ah mi serve skywars atlas ah the whist ce l'ho come non consumavi le found ah posso anche fare il refine aspetta me lo fai usare adesso grazie vai vai up a tutto andiamo a bomba mi servono i corni per ascendere staffare e come artefatti emblem come è emblem of the che non è manco mezzo ovviamente se no in quest'altra maniera nobles oblige che con il favonius codex ci starebbe a bomba nobles oblige manco questo ci avrò un cazzo ovviamente niente 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 quelli a 5 non c'è una sega andate tutti a fanculo basta mi lascio la squadra che c'è me la farò poi adesso si fa in altra maniera allora andiamo andiamo basta sta cosa qui è stata veramente inutile mi è stata in realtà è qua sotto tipo è qua sotto di qua però è qua sotto ma di qua dall'altra parte oi oi è pallo dove cazzo è ora sto troiaio di io sono finito un pertuccio io le odio ste cose ste mappe fatte a cazzo ma probabilmente a cazzo è lassù che devo andare c'è lassù in tesù di qua ovvio provo a caso trovo dove cazzo è sto figa di porti oh eccolo qua la maremma maiara vai si fa subito ci danno 500 experience e va a fanculo mi serve un coso mi serve un coso no non ce l'ho rete non me lo dia mi serve un crystallized un crystall maremma merda questo dice in descrizione scusa raccomandate element quello e noi si fa che si leva un attimo lui e ci si mette il primo crystallized mi viene in mente che si è un deciso n'igual n'igual va benissimo non ne uscirò sanno inizia eh eh sì l'ordine quale cazzo è mo non dice un cazzo poi sta a fare andiamo un po ragioniamo se questo lo disatti oh a caso cori ninguan dagli viada a no cosa cazzo fai perché prendi tasti a caso no non ti ho detto di switch up non ti ho detto di switch up ti ho detto di pesta oh la tua mamma era una gran maiala io lo so perché c'ero ma cosa fai da solo perché guarda guarda prendi tasti a casa tasti a casa da solo figlia impazzito ma poi switch da aspetta eh perché mi ha schierato il joe mi sta schierando dio madonna fatemi guarda un attimo lui per favore grazie ahhh e poi pure il joystick contro mi ci mancava madonna bestia è presente ma da cosa sono quelli a fare laggiù sono che devono baccare il cazzo vai questi pietroiali questi piosi inutili qui con la fiocina sono così e la fiocina con la palestra e poi arriva Arturo bargiuccio e poi sono un coglione io e certo vai ninguan fa così di straordinario e l'ha sentito niente che parlo per forza fuori con loro che non ce la farò tutta colpo di questo ma cosa ready steady go top di questo affare qui di questo affare qui inutile ma la smetti ti rompe il cazzo boia vai a questa senato per dirrompe e deflagrare lo scroto dai resettami tutto così si fa per 3 2 1 vai a casa eh change failed to ma eeeh un coglione fa cazzate eh soprattutto voi maghi del cazzo dai fatevi pestare amorevolmente nessuno si farà male sono questi maghi sono questi maghi sono questi cazzo di maghi della merda ma poi arrivano per farsi ammazzare proprio alcuni eh no switch ti prego no fai buttare prima giù lui poi lui bravo l'importante è che ti lascio prima questi piccini e rompono soltanto il cazzo vedi rompi cazzo si chiamano il termine tecnico è rompi cazzo la maremma troia dai ho un po' rompe il cazzo così però eh boia de eppure ti ci tiro giù eh questo sarà più grobo questo è più cattivo no ma fa come cazzo ha fatto a prendermi alla fine come cazzo ha fatto a prendermi alla fine pezzo di merda boia dovresti fare più male eeeh cosali senti litighi con più di lui non mi baghi il cazzo a me per piacere ooooh important message attenzione messaggio importante chissà cosa dice world level increase aumentato al 40 di merda boia de andate tutti affanculo andate teste di cazzo ma search the vault sto cazzo ora si va a monstat a riscontrare il premio no sono un cazzato come le mine dottore lei non può capire la mia il mio cambio la mia trascesa della frustrazione incompleta gioia quando ho letto 40 molto bene perché adesso io posso fare tutte queste storie qui tutte posso farle tutte queste ma soprattutto posso fa perché non posso fare questa ancora ho capito beh sblocciamola basta fate a modo non bloc